Ciao Mirko, sono Nico. Ciao Nico. Un saluto ad Alberto. Grazie. Niente, io chiedo una cortesia di farmi esprimere un po' il concetto, magari non vorrei di nuovo, però. Allora, capitolo Ultras, io anche se frequento la curva, trasferte, ho seguito il Bari, seguo il Bari, non mi sono mai rappresentato con il gruppo Ultras, questo non è una cosa personale, perché comunque la coerenza, che tanto parlano di coerenza, non si vede mai. E non entriamo in polemica, perché altrimenti non penso che riusciremo a capirci. Per quanto riguarda la vicenda societaria del Bari, siamo sempre le solide. Io vorrei fare anche una domanda a Alberto Parigini. Se il 31 gennaio il Bari dovesse avere un distacco di 8 punti dalla quarta ultima, mi dite voi che stimola un ragazzo a diventare in curva, magari con una campagna di rafforzamento non all'altezza, che stimola un ragazzo che entra in curva a cantare e a non invece a contestare la società. Ciao, grazie. Hai ragione. A questo proposito penso che si colleghi il discorso del comunicato stampo. Noi in fondo al comunicato diciamo, aspettiamo gli eventi facendo e continuando a fare l'unica cosa che sappiamo fare bene, ovvero il tifo, restando vigili su ogni situazione, pronti come sempre a prendere nei tempi opportuni anche decisioni drastiche. Noi speriamo di non arrivare mai a decisioni drastiche, perché vorrebbe dire la situazione è molto molto critica, però noi come ho detto altre volte siamo sempre dietro a queste cose, non pensate che noi andiamo la domenica mattina a fare il tifo soltanto. Sappiamo bene che se non arriveranno adeguati rinforzi a gennaio la situazione sarà non critica, drammatica, perché con questa squadra, con questo organico, con gli infortuni che ci stanno tempestando e comunque sia a prescindere anche da quelli, è oggettiva la mancanza di alcuni uomini chiave, buoni, decisivi in più di un reparto, quindi io penso che sicuramente la società, sentendo Angelozzi, interverrà corposamente sul mercato. Se non lo dovesse fare, come dice, io spero sempre di no, come dice lo spettatore che ha appena chiamato, e se dovessimo avere otto punti in meno, e allora vedremo poi chi vuole contestare, vedremo chi rimarrà accanto a noi, vedremo chi farà le battaglie che abbiamo sempre fatto, perché parlava anche di coerenza. La linea guida non è una per sempre, l'anno prossimo, nel 2011, festeggiano 35 anni, 35 anni di molti bassi e pochi alti, tra alti e bassi, sono stati molto pochi gli altri, lo capite bene. In questi 35 anni c'è stato 10 anni di contestazione, 10 anni di tranquillità, 5 anni di semi-anarchia, c'è stato un pochino di tutto. Adesso che siamo in una curva molto più unita che in passato, perché gli anni bui sono stati veramente brutti, gli ultimi 10 anni sono stati veramente brutti, vedere ora una curva piena è bello, però bisogna vedere anche, è molto facile venire quando il Bari va bene, tutti quanti un mese fa parlavano di Coppa UEFA, di Mister Libidine, ora si parla di retrocessione inevitabile, di messa da cacciare, quindi siccome noi abbiamo una certa coerenza, come ho detto all'inizio, la coerenza si decide all'inizio dell'anno qual è la posizione da prendere, sempre per poi non arrivare a gennaio, ma come si potrebbe arrivare, come abbiamo scritto oggi sul comunicato, a prendere decisioni drastiche, quella è la coerenza. Non è coerenza dire 10 anni fa avete contestato, ora non contestate più perché. Perché ogni volta è stucchevole, è veramente offensivo per gente che lavora dalla mattina alla sera e che prende una mezz'ora di permesso per andare a vedere l'allenamento, per spronare i ragazzi, è veramente offensivo e deprimente per Lello che in questo momento non sta guardando la televisione ma sta lavorando perché ha due figli da mantenere e guadagna 900 euro al mese e sentirsi accusato soltanto perché sta imbalconato a sgolarsi la mattina alla sera di essere uno stipendiato di Mattarese è veramente diventato inconcepibile. Anzi, dirò di più, sfido chiunque e tanto tutti quanti hanno amici nella famiglia Mattarese, queste cose potrebbero essere trapelate. In 30 anni nessuno ha mai portato una prova, si è sempre proceduto con accuse gratuite. Anch'io lavoro, tutti quanti noi lavoriamo e tutti quanti sanno che lavoro facciamo, quindi continuare a sentire accuse che contestiamo perché Mattarese non ci dà i soldi e che non contestiamo perché Mattarese ci dà, è diventato veramente più che stucchevole ridicolo e offensivo per moltissimi di noi che siamo stanchi di queste cose. Alberto, facciamo così. Adesso, visto che credo stiamo per andare in pubblicità al secondo break, ricordiamo il numero per intervenire in diretta 080 501 4668. Visto che questo confronto, oggi lo stiamo favorendo. Partiamo da un punto di costruzione, nel senso che la cosa più brutta in questo momento è vedere una tifoseria, non dico che si spacchi, ma che faccia un po' queste guerre tra virgolette, tra fratelli, tra persone accomunate dallo stesso tipo. Quindi l'invito e la presenza di Alberto Savarese è anche volta a questo, è che si possa ricominciare a ragionare nella stessa maniera. Ora, Alberto è qui come rappresentante dell'Ultra per spiegare le loro posizioni, per spiegare qual è la linea che saranno seguendo e per chiarire molti dubbi. Da questo momento in poi bisogna ricominciare anche perché la squadra ha bisogno di quel sostegno necessario a fare più punti possibili in attesa di arrivare ai rinforzi di gennaio. Soprattutto in questo momento molto delicato in cui il Bari rischia di andare a Catania con 10 uomini e più un undicesimo ancora da individuare, visto che Kutuzov ancora ieri ha lavorato a parte, con questo torniamo all'attualità. Ricordo il numero 080 501 4668, noi ci fermiamo per la seconda pausa pubblicitaria, se non vado errato chiedo conferma alla regia e poi rientriamo in studio ancora qui, ancora con Alberto Savarese, ancora con le vostre telefonate. Naturalmente ci sarà modo di parlare anche di mercato, possiamo allargare naturalmente anche il discorso alle vostre valutazioni circa la partita di Catania. Restate con noi.